La colpa secondo me è di tutti e di nessuno, ma è chiaro, ma non può essere colpa di uno o facciamo fatica a farlo, non può essere colpa delle punte, basta, prendiamo gol su una situazione da fermo, non può essere colpa del portiere solo o dei difensori, non è stato un'azione che ci ha messo in via, non è neanche vero poco attenti o superficiali e il calcio è fatto di questi momenti, come ho detto all'inizio, non è una giustificazione per l'amore di Dio, in questo momento alla prima piccola disattenzione che si apre un minuto o al cinquanteno, sessanteno, prendiamo gol e quindi bisogna capire che bisogna avere ancora più cattiveria, ancora più grinta e delle volte anche fare violenza a se stessi come molte d'origine di gioco e buttarla via, non rischiare niente, invece di cercare sempre un qualcosa che in questo momento ci punisce. Si aspettavano tutte queste difficoltà? No, tutte così no, mi aspettavo di difficoltà perché, ripeto, ci sono tantissimi giocatori, c'è tanta gente che sono sei mesi, chi un anno, che fermo, chi non ha fatto sette, otto, non ha fatto la partita, mi aspettavo la difficoltà sicuramente, però delle volte ti illudi che fai una buona Coppa Italia, come gioco, fai una buona prima partita, pensi che sì, ci saranno le difficoltà, però si riescono a coprire attraverso qualcos'altro, invece poi dopo abbiamo avuto più difficoltà di quelle che pensavo sicuramente. La settana sembrava mortata... Ma adesso, come io ho tenuto allenato da un mio carissimo amico, quindi non mi piace indicare gli altri, penso che da punto di vista globale abbiamo perso, abbiamo torto, però speriamo che potremmo giocarcela, ce la siamo giocata, poi abbiamo avuto delle deficienze noi sicuramente e quindi abbiamo perso, ma penso che in questo girone non c'è la squadra che possa ammazzare un'altra e non c'è neanche la squadra che possa essere ammazzata da un'altra. Quindi di volta in volta chi ha più attenzione, più determinazione, più voglia, spirito di sacrificio, spirito di vincente, porta a casa il risultato. Non è che noi non ce l'abbiamo avuto, però evidentemente ce ne vuole di più. Era caldo per noi, era caldo per la Paganese, abbiamo messo a frutto più attenzione, molta più attenzione. Secondo me la mia squadra può giocare meglio, può fare molto meglio. Però ci hanno messo cuore, perché i ragazzi avevano fatto due partite buone, anzi tre, anche a Reggio Calabria. Un pizzico di mala sorte, invece oggi c'è stata la buona sorte. avremmo cercato di andare a punteggio nelle partite perdendo, una perdendo, l'altra pareggiando, ma erano quasi vinte con Reggio Calabria e a Versa Normanda a tre secondi dalla fine. Quindi abbiamo preso un po' di contraccolpo psicologico. Oggi non avevamo buonissime gambe per andare a... nel secondo tempo era giusto rischiare, ma era anche giusto ripartire con un po' più di incisività. Abbiamo perso qualcosa, secondo me la mia squadra può fare molto meglio. Comunque si fa di necessità virtù in certi momenti, visto che quando tu giochi bene ti commentano in modo, secondo me, sbagliato. sotto il profilo della prestazione stava la peggiore delle nostre partite. Però abbiamo portato a casa questa volta quello che noi volevamo portare a casa, quello che i ragazzi hanno meritato da qui alla prima di campionato. Quindi devo essere onesto, quello che oggi c'è da prendere, da sottolineare, era lo spirito della squadra, l'attenzione della squadra, la lucidità di voler prendere quello che si doveva prendere, cioè i tre punti. Però io ho molta fiducia in loro, io esorto a far meglio perché secondo me sono dei ragazzi che possono e devono fare di più.